Nonostante il vento e le frequenti piogge, ci sono svolte regolarmente due manifestazioni che erano molto attese. La prima, svoltasi tra Trieste e il Carso, ha riguardato la rievocazione storica delle Alfa Romeo. L'Alfa Romeo aveva una tradizione da rispettare. La prima alfetta fu presentata alla stampa per la prima volta proprio a Trieste, nel porticciolo di Grigliano, esattamente 40 anni fa. Ma l'evento era aperto a tutte le Alfa di ogni età ed epoca per festeggiare i 102 anni del marchio italiano. L'altra...